Alessia Gennari, poche ore si parte per il Sud America. Hai delle paure che ti porti con te per andare a giocare all'Olimpiade? Quando si arriva a giocare all'Olimpiade secondo me le paure vanno eliminate e prende il sopravvento sicuramente la carica per quello che stiamo andando a fare. Le paure possono esserci dal punto di vista del viaggio, per quello che sta succedendo un po' in giro per il mondo, per le brutte cose che stanno succedendo, però bisogna cercare di non pensarci. Paure magari di non essere all'altezza delle aspettative, ma alla fine le aspettative ce le creiamo dentro di noi, quindi niente paure. Al contrario, avrai sicuramente qualcosa di così positivo che ti dà tranquillità? Sì, sicuramente sono molto sicura della motivazione che mi ha portato fin qua, che è fortissima e spero di riuscire a trasmetterla anche alle mie compagne, ma anche se sono sicura che non sono da meno. E poi io l'ho detto fin dall'inizio, che se io riuscivo a recuperare dopo questo infortunio, ahimè, mi schiace per i più scaramantici, ma mi devono vincere una medaglia.